Ciao a tutti e benvenuti alla decima lezione di anatomia. Intanto inizio sempre ringraziando tutti quelli che in perterriti si iscrivono al canale, nonostante io non carichi una ceppa. Riprendo esattamente da dove ho lasciato la lezione precedente, la numero 9, ovvero ai volumi del viso. Quello che mi interessa trattare in questa micro lezione sono proprio le forme geometriche che compongono la testa. Conoscere bene questa suddivisione volumetrica ci aiuta intanto a creare dei visi credibili indipendentemente dal tipo di fisionomia che vogliamo creare. E l'altro aspetto invece è legato alla gestione delle luci e delle ombre, cioè se conosciamo il volume, riusciamo a ricostruire l'ombra che proietta e anche a capire come le luci cadono sulle superfici, soprattutto legato al viso perché di fatto il viso è la parte più espressiva e più importante di quasi tutte le opere che sia un disegno, una scultura, eccetera eccetera. Riprendo infatti il discorso della lezione 8 e della 9 dove trattavo la testa per chiudere questo discorso aggiungendo anche il profilo e il tre quarti. Nel tre quarti di fatto introduciamo quelli che sono i volumi. Ok? Cioè iniziamo a renderci conto che le cose che disegniamo non sono più bidimensionali. Spiego meglio. Cioè noi finché disegniamo il fronte puro di una testa, il suo profilo, noi cosa facciamo in realtà, ma ricostruiamo sempre una silhouette bidimensionale. Ok? Non dobbiamo costruire realmente un volume perché utilizziamo in realtà per rendere queste due forme qua solo la silhouette. Per cui per quanto ci riguarda questa roba qua è bidimensionale. Sì ci metti il naso però il naso per te sono due righe parallele così oppure anche lì dipende da come li disegnate già può essere che fate solo i buchetti con l'ombrina, fate solo l'ombra con le narici, fate solo la parte finale. Però una roba è replicare i disegni che vedete in giro e copiare lo stile. Un'altra roba invece è ok capisco che volume c'è dietro a quello che disegno per cui mi rendo conto di quali sono i volumi per esempio del naso, li comprendo e quando ho bisogno di disegnarli scelgo lo stile con cui disegnarlo ma conoscendone bene quelli che sono gli aspetti volumetrici. Tutti gli elementi di un viso che sia questo frontale di profilo o di tre quarti rimangono invariati cioè se nel fronte io ho gli occhi qua nel profilo dovranno essere alla stessa altezza e nel tre quarti alla stessa altezza. Allora è molto complicato muovere una testa nello spazio così come tutto il corpo perché per muoverla nello spazio dobbiamo conoscerla bene in tutte le sue parti. Il modo migliore per imparare a disegnare è la comprensione dei volumi e delle forme perché comprendere un volume soprattutto se è semplice o geometrico e muoverlo nello spazio è più semplice che provare a disegnarlo così com'è. L'abbiamo visto già quando costruivamo il manichino cioè se devo costruire il volume di un braccio piegato in prospettiva allora faccio la sfera, faccio il cilindro, faccio la sfera, faccio di nuovo il cono rovesciato. Questo è il volume del braccio fatto di sfere, cilindri e coni tagliati. Una roba è muovere cilindri, coni eccetera eccetera. Bisogna avere un minimo di conoscenza prospettica, un minimo di conoscenza volumetrica però sta roba qua dopo un po' si immagina. Un'altra roba è cercare di imparare a disegnare invece tutta la parte muscolare, cioè deltoide, pettorale, bicipite, tricipite, il gomito, sapere come queste parti interagiscono tra loro e via dicendo e tutto un altro paio di maniche rispetto a muovere a livello volumetrico dei coni, dei cilindri. Visto che chi all'inizio non ha bene una conoscenza approfondita della muscolatura perché ci vuole molto tempo per apprenderla, diventa più semplice come step intermedio proprio questo, imparare l'aspetto volumetrico. Vale la stessa cosa anche per quanto riguarda il viso e tutti i vari elementi, lo vedremo anche quando faremo la mano per intenderci. Cioè il fatto è che nel momento in cui c'è qualcosa da disegnare, se cerco di scomporla in una figura più semplice e la comprendo diventa molto più facile muoverla, disegnarla e approfondire tutti quegli aspetti visivi. Per cui quello che facciamo adesso non è quello di cercare di disegnare un viso ma è quello di capire quali sono i volumi principali che lo compongono. Dal punto di vista geometrico dobbiamo ragionare più su una figura con una base esagonale. Fate conto di vedere la testa dall'alto, dove il naso è qua per intenderci. La testa è strutturata in questo modo. Ci sono praticamente le due direzioni principali, cioè le quattro direzioni principali, fronte, retro e i due profili, e le direzioni intermedie, cioè i lati obliqui. Per cui il cranio a livello di superfici ha delle zone piatte, delle zone che sono quella frontale e quella laterale, e delle zone oblique. Allora iniziamo a vedere quali sono le zone piatte frontali. La fronte, che si chiude sull'arcata sopraccigliare e al centro degli occhi dove poi inizia il naso. Il naso, cioè la superficie inclinata del naso, quella che sporge, sopra è piatta praticamente. Per noi la consideriamo una superficie piatta. Poi abbiamo la parte della bocca, sempre frontale, e il mento. Poi ci sono, sempre trattando questo aspetto, invece le parti oblique, che combacia con le sopracciglia. Da quel punto qua in poi, cioè andando verso il bordo del viso, avete un'area inclinata. Cioè ci troviamo davanti in questo punto, ok, della rotazione del volume della testa. Dove finisce l'arcata sopraccigliare abbiamo questo spazio qua, cioè questa superficie qua, che è una superficie obliqua, ma che rientra. Infatti gli occhi sono più indietro rispetto alla fronte. Se lo vedessimo nel profilo ci troviamo, qua c'è il profilo, qua il punto al centro del naso, la fronte fa questo. Questa parte qua è questa. Da qui c'è la parte oblique qua. Questo punto qua, che adesso faccio in nero, non è altro che la rientranza dell'occhio rispetto alla silhouette. Mi pare che il profilo l'avessimo visto, se ci fate conto, qua c'è il profilo del naso, qua c'è il piano della faccia. Questa linea qua, questo scuro qua, è dato dalla rientranza della cavità oculare rispetto alla fronte. Un'altra parte frontale è data dalle guance, o meglio, dallo zigomo. Ne determina l'altra parte, cioè le guance sono un'altra parte frontale, c'è chi guarda verso di noi, ma lo zigomo determina il cambiamento di superficie tra la parte frontale e quella che è invece la parte obliqua. Adesso non vi preoccupate delle proporzioni, è solo un ragionamento. Un'altra parte obliqua che si trova sul viso è data dal cambio di spessore e di profondità che c'è tra la superficie del naso, cioè questa, e la superficie delle guance, che è questa, che sono a due livelli diversi, vedete, uno è qui e uno è qui. Quindi il raccordo tra questi due è un'area obliqua, ok, fatta in questo modo qua, che determina la distanza tra la superficie del naso, la parte più avanti del naso e la sua base fondamentalmente. La bocca è una parte volumetrica molto importante che tralasciano tutti, cioè tutti si dimenticano che in realtà la massa della bocca è un volume, cioè tutta questa parte qui in realtà è data da una serie di muscoli che si trovano qua intorno, ok, che ci permettono di gestire tutte le nostre belle espressioni facciali. Per cui in realtà la bocca non è un taglio sulla faccia, ma è una serie di masse e di volumi che hanno uno spessore, per cui nel profilo si vede meglio, chiaramente, il labbro superiore sporge, perché sotto comunque ci sono i denti, per cui la pelle ha uno spessore, per cui pensate che ci sia, se fosse la sezione, questo è lo spessore del labbro e qui c'è l'arcata dentale, per cui le labbra si appoggiano ai denti. E se avete presente il teschio, ok, che è fatto in questo modo qua, i denti sono qui, qua c'è il naso, poi c'è la bocca che ci si appoggia, che ci si appoggia. Dopodiché, stessa cosa per il labbro inferiore, altra massa, vedete, altra massa volumetrica, il mento è di fatto un volume, ok, cioè sporge. Il punto in cui la parte diagonale, nella parte frontale, crea questo tipo di spigolo è combacia in realtà con il mento, con la curvatura del mento. Poi ci sono le orecchie, se vi ricordate, tra il naso e la bocca. Lo zigomo, ve lo faccio di profilo, fa questo, segna questo parte qua, della testa, e già, siamo già qua, sul lato. Il lato obliquo è molto più sottile rispetto agli altri due, ed è proprio un raccordo che c'è sulla fronte e nella parte più esterna dello zigomo. Vedete che tutte le masse combaciano sempre con la loro controparte. Questo cosa significa? Nel tre quarti abbiamo a che fare chiaramente con entrambe le visioni e con tutto il discorso volumetrico che abbiamo trattato fino ad ora. Qual è il problema però? Essendo due visuali diversi in due disegni diversi, non vediamo contemporaneamente questo aspetto qui. È come disegnare un cubo frontale di profilo, o un parallelepipedo nel nostro caso. Abbiamo la faccia frontale, la faccia laterale, è solo quando lo mettiamo in tre quarti però che ne percepiamo tutte e due le dimensioni contemporaneamente. Per questo è così complicato disegnare il tre quarti del viso. Allora, intanto partiamo facendo il nostro ellisse di riferimento. A questo punto le linee di costruzione invece di essere delle croci sono sempre delle croci ma disegnate su una superficie tonda. L'esercizio che potete fare è provare a disegnare due righe su un uovo. Voi avete un uovo, dice disegnate due righe in questo modo qua. Quando lo ruotate in realtà le righe prendono questo aspetto qui, questa curva qui. Mano a mano che lo ruotate la linea mediana si sposta sempre più verso il bordo. Considerate che il tre quarti ha infinite posizioni che può andare da quella frontale in cui abbiamo il fronte preciso ma nel momento in cui ruoto leggermente la testa ho già una sorta di tre quarti in cui vedo ancora tutti gli elementi. Però è anche vero che per esempio potrebbe essere quasi di profilo. Vedo ancora tutti gli occhi ma il naso, il volume del naso copre parte della guancia destra in questo caso. Questo qua è ancora tre quarti. Teniamo conto che la fronte rispetto a noi ha una sorta di pentagono fatto in questo modo qua, più stretto nella parte superiore del cranio, si allarga all'altezza della parte più alta dell'arcata sopraccigliare e si va a chiudere al centro del naso. Questa parte qua è leggermente curva ma è fondamentalmente piatta ed è rappresentata da questo punto, da questa linea qua nel profilo. Benissimo. Nel tre quarti questa linea qua ci aiuta a inserire i nostri elementi che sono l'arcata sopraccigliare, il centro, il centro degli occhi, chiaramente, della fronte. Vedete anche qua. Seguo l'andamento leggermente curvo della testa. Dopodiché ho superficie del naso con la parte terminale. Il naso lo potete comprendere a livello volumetrico in questo modo. Semplicemente è una specie di parallelipipedo, però a base trapezioidale, dove qua ci sarebbero poi le narici. Questa parte qua è curva ed è il raccordo tra la superficie del naso e la guancia. Vedete, frontalmente vedo questo, poi vabbè c'è la parte obbligata, che è qua, dalle due parti, e c'è la parte volumetrica del naso, cioè la punta e le narici. Di profilo abbiamo la superficie obbligata del naso, la punta e le narici. Nel tre quarti abbiamo la superficie del naso, che in questo caso si vedrà che è inclinata, la punta e le narici, se ne vedrà ovviamente solo una, o una e un pezzo, la punta, questa parte qua, questo spessore qua, e alla base abbiamo le narici. Tra gli occhi e il naso ci sono le orecchie. Vedete che le curve di costruzione qua sono rettilinee. Qua non possono essere rettilinee, perché la testa è fatta semisfera, per cui non posso usare delle linee rettilinee su una semisfera, a meno che non siano perfettamente allineate, però non esiste a livello visivo la visione ortogonale di un oggetto. La visione ortogonale sarebbe una visione non deformata dalla prospettiva, per cui questo è un parallelepipedo in prospettiva, questo sarebbe il parallelepipedo ortogonale. Capite bene che dal punto di vista visivo questa è un'aberrazione, cioè è un'idealizzazione geometrica di quello che vediamo, ma dal punto di vista del disegno, col fatto che noi cerchiamo di rappresentare le tre dimensioni, questo tipo di visuale può funzionare in certi momenti, però non ha senso. Cioè le visioni ortogonali, o se preferite utilizzarle, nella prospettiva solitamente si utilizzano assonometriche, per cui faccio un esempio. Questa è l'assonometria. Un parallelepipedo in cui questo lato e questo lato, questi lati sono paralleli tra di loro, mentre la prospettiva dice che non è possibile che due lati a distanze diverse non vadano verso un unico punto di fuga. Quindi sono visuali idealistiche che vengono utilizzate nel disegno perché molte volte funzionano e sono sufficienti ad accontentare dal punto di vista del disegno chi lo guarda, ma sono errate dal punto di vista geometrico, visivo proprio, perché non tengono conto appunto della terza dimensione, cioè della profondità. Per cui trattiamo invece il tre quarti proprio in questo modo qua, cioè tenendo conto che è una forma che ha uno spessore, un volume. tenete conto che questa rientranza qua, data dall'arcata sopraccigliare, è il punto di raccordo tra la fronte e la guancia, per cui è una rientranza di fatto. Anche qua dobbiamo tenerne conto, per cui, vedete, tac, e anche nella parte più lontana del viso, anche qui, abbiamo una rientranza. Lo zigomo, bell'orecchio, ora, dovete tener conto che lo zigomo solitamente parte circa a metà dell'orecchio, va verso la bocca e si chiude sotto il mento. Stessa cosa lo facciamo vedere dall'altra parte. Ovviamente il mento, che ha un volume, dal centro del viso verrà fuori. E si potrebbe anche vedere parte del mento. Qua c'è il volume della bocca, per cui il labbro nella mia direzione è più largo, ok, perché questa metà qui è più lontana da me, per cui risulterà, come in prospettiva, più, più, più stretta, ok. Labbro superiore, labbro inferiore. Ora, questo è per capire a livello di costruzione come gestire, vedete, qua c'è il volume di raccordo, questa parte qua della fronte è obliqua, cioè, vista dall'alto sarebbe fronte, obliquo, lato, orecchio. Stessa cosa dall'altra parte, qua c'è la nuca, lato, che è piatto, obliquo, fronte. Qua c'è il naso. Ora, questo è il lato piatto della testa, questo è il mento. Ora, chiaramente, questa è un'esagerazione geometrica per farvi capire come gestire i volumi. Qua, chiaramente, poi, questa deve essere solo una linea guida della costruzione della testa. Ok, ora vediamo insieme questo tipo di costruzione cosa ci deve aiutare a fare. Allora, abbassano ancora l'opacità di questo perché queste linee qua possono confondere. E vediamo come trattare questi volumi, cioè, come utilizzare questi volumi per fare... Tutti questi elementi qua tengono conto proprio di questo tipo di struttura volumetrica, per cui se esemplifichiamo al massimo la figura abbiamo la parte piatta, la parte macellare, la parte obliqua, poi vedete, questa parte qua è la parte obliqua, per cui se avessi una luce di questo tipo qui devo ragionare col fatto che questo sia in ombra, perché rientra, qua c'è l'ombra, questa parte qui è sotto la luce e viene l'ombra tutto da questa parte qua invece, per cui qua inizia l'ombra perché segue la parte obliqua, ok, qua il mento è un volume di questo tipo qua, per cui l'ombra gira intorno al volume, qua sotto, ovviamente sotto il mento, e via così, ok, poi lasciate perdere se quello che viene o non viene in fase didattica, in fase didattica, il fatto che vi venga o meno un viso ha poca importanza, i visi vedremo venire quando disegnate, non quando studiate, ok, la cosa che non dovete mai assolutamente fare invece è quella di disegnare il viso utilizzando i righelli, ho visto in giro dei tutorial dove facevano vedere come disegnare il viso utilizzando le misure e i righelli, e io lo sconsiglio perché misurare anche se vi aiuta dal punto di vista proprio delle proporzioni, non vi aiuta invece a sviluppare il senso estetico, ok, delle proporzioni, la cosa bella, umana, è che fondamentalmente siamo tutti diversi, per cui non c'è una regola ferrea, ok, sulla gestione degli volumi, degli spazi, perché abbiamo gli occhi grandi, piccoli, larghi, stretti, bocche larghe, nasi grossi, per cui dipende come decidete di caratterizzare i vostri volumi, la cosa importante per rendere credibile un viso è tenere presente proprio questa suddivisione volumetrica, per cui avete a che fare con una serie di superfici piatte, che si raccordano tra loro, ok, per cui può essere che c'è qualcuno con il viso più allungato e il naso più sottile, ci può essere qualcuno con la faccia un pochino più tonda e il mento più squadrato, ci può essere quello che invece tende ad avere la faccia più tonda perché è un po' più in carne, per cui fondamentalmente non siamo uguali e abbiamo tanti possibilità diverse dal punto di vista della fisionomia e questo anche nel tre quarti, ok, per cui voglio farci uno con il naso un po' più pronunciato, piuttosto che qualcuno con il naso più squadrato, e gli occhi più piccolini, magari col barbone, visto che io disegno molti nani, oppure se vogliamo fare un viso più femminile, ricordatevi sempre che quando disegnate le donne, meno segni ci mettete, più è facile che il risultato finito sia quello di effettivamente una, un essere femminile, ecco, invece che, però vedete che anche qui tengo sempre conto di la linea del naso, l'occhio più lontano che è più piccolo, vorrei fare la stradica, il labbro, lo spessore del mento, lo zigomo, eccetera eccetera, e vedete che alla fine non si fa altro che giocare con tutti questi tipi di proporzioni, rispetto, questa è più grande rispetto alla bocca, che invece è al mento più pronunciato, qua lo zigomo più affilato, piuttosto che questo che tende ad avere, no, delle forme più quadrate, ok, però se ci fate caso, tutti questi visi qua, tutti questi tre quarti qua, vedete, tengo sempre conto di questa piramide, di questo pentagono che c'è sopra, che delimita le due arcate sopraccigliari e le divide, e poi disegno il profilo del naso che è diviso dalla punta, la parte superiore e la narice, vedete la bocca, la linea della mascella che termina con l'orecchio, anche qua vedete che questa linea qua, la si trova in tutte, in tutti i visi, qua c'è la parte obliqua, vedete, l'occhio, vediamo se, trovo qualcosa online, ho estratto da internet una foto di riferimento che ci aiuti a capire questo aspetto qua, allora, intanto, se ci fate caso, possiamo vedere tutti gli elementi di cui abbiamo parlato prima, cioè il volume della bocca, ok, la parte superficiale del naso, la forma pentagonale che ha sulla fronte, la distanza, i raccordi, no, tra la fronte, il naso e le guance, ok, mento, eccetera, eccetera, questi sono tutti elementi che, di riferimento, ci aiutano a capire, allora, andiamo al centro della faccia, questo è il mento molto squadrato, guardando verso l'alto, se ci fate caso, la linea di costruzione è questa, cioè segue sempre la forma, il naso esce dalla sagoma, ha le labbra molto pronunciate, per cui abbiamo a che fare con un viso molto interessante, vedete che l'occhio destro non si vede praticamente, non si vede praticamente per niente, praticamente per niente, guardate, questa è la fase di costruzione della figura, insomma, che è la fase di costruzione della figura, vedete che, se io divido il viso in due, oltre la linea mediana, si intravede, parte dell'altra parte, diviso dell'altra metà, ok, adesso l'occhio lo faccio un po' più, ok, 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 se ci guardate dopo, noterete che, per esempio, se ci fate caso, quest'occhio qua non funziona, perché a differenza di questo, è troppo vicino al sopracciglio, per cui è come se non avessi disegnato lo spessore che c'è tra il sopracciglio ed effettivamente quello che è il volume dell'occhio. Il modo migliore per imparare la struttura del tre quarti è copiare, copiate sempre delle foto, mai dei disegni, esercitatevi tanto e cercate di applicare questi aspetti qua, vedete, la parte frontale, la parte frontale è fatta a pentagono, la parte obliqua, il davanti del naso, il volume, la bocca, lo zigomo. Perfetto, direi che avete abbastanza materiale da studiare, se vi è piaciuta la lezione mettete like, se vi interessano gli argomenti trattati iscrivetevi, perché anche se non sembra il canale non è morto, per cui ciclicamente comunque carico dei video e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao!